Non è tardi, non è tardi, non è tardi, non è mai tardi, è morta una black ship oggi, non è morto, non è solo cacciato dalla città, la coschetta è ancora con lui, lo dobbiamo portare semplicemente alla Staminax, ha pagato, è morto perché non abbiamo eseguito gli ordini di Nine alla lettera, però lui è qui, è solo un momento in mente, non è altro di noi, tornerà, speriamo inverno, la Staminax non è mai figura, no, non lo è, io lo so bene, cosa è successo? Qualcuno ha scritto ATAB nel quartier generale dei trauma, non siamo stati noi, ma è morta comunque la black ship, ma la colpa è andata su di noi, perché noi l'abbiamo ricreata, e andrà su di voi ogni volta, lo sapete, vero? Sì, benissimo, anche se l'anno scorso è stato l'alveare, l'anno scorso qualcuno si è preso la colpa, non potrete essere fermati tutte le volte, non potrà capitare tutte le volte, è uno dei nostri due anni fa, voi avete creato qualcosa, avete dato vita a un movimento rivoluzionario, bene, qualcuno è del primo greggio, non noi, è uguale, si chiamate black ship come si chiamavano loro, mi aspetto che non vi succeda mai più una cosa che diceva, non abbastanza evidentemente, mi dicono che avete anteposto l'amifizia con la famiglia a Yodinine? Esattamente, sì. Sì o no? Sì. Noi vogliamo bene questa città, la città. Lo vedete tutte le volte? Noi ci siamo rotti il cazzo di questa storia. Allora cambiala Evo, cambiala. Noi ci abbiamo provato. Non abbastanza. Non abbastanza. Bene. Ma se qualcuno ci mette le ruote, ti passate tra le ruote. Chi è? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora trovalo, interroga qualcuno, preparate se gli vedete la verità, lo scuotete favori, fate qualcosa, altrimenti sarete puliti ancora e ancora e ancora. Perché questa storia non finirà.